video ripresa con huawei p9 plus utilizziamo la modalità full hd 60 fps proviamo un panne veloce ora ci spostiamo andiamo in ombra adesso il fogliame devo dire che ha una stabilità davvero impressionante anche la messa a fuoco lì c'è anche un pavone non l'avevo visto vediamo troviamo un po di controsole beh a schermo devo dire che è notevole vedremo vedremo poi sul display eccolo la che passa ciao